Un'iniziativa promossa da Wisman che percorre l'Italia intera alla scoperta di importanti progetti di efficientamento energetico. Tanti architetti e professionisti che intervistati da Giorgio Tartaro hanno raccontato in questi due anni i loro progetti realizzati o in divenire legati al tema della sostenibilità e dell'efficienza energetica. Questo è ArchiEnergy. ArchiEnergy rappresenta un importante momento di condivisione con l'obiettivo di avvicinare i professionisti ai partner per l'efficienza energetica Wisman, creando opportunità professionali e importanti occasioni di collaborazione.